La festa della FIOM al Circolo Rondinella e il Torrino entra nel vivo dei dibattiti più attesi. Dopo l'incontro con il segretario generale della CGL Maurizio Landini, si sono confrontati sulle esperienze di mutuo soccorso, aprendo il dibattito a ricostruire la solidarietà. Va ricostruita perché va ricostruito un tessuto. Tutti noi ci siamo un po' allontanati dalle persone. Ora noi come coppe abbiamo sempre cercato di tenere un forte legame al territorio. Il problema è oggi ricostruire una rete fra le persone, però dobbiamo recuperare un po' di più questo rapporto al territorio. Ci siamo tutti un po' allontanati dalle persone. Si vive in una realtà, in un mondo, in una società dove l'individualismo ha prevarso sul senso collettivo. Questo ha toccato un po' tutti noi. Bisogna fare uno sforzo invece per recuperare questo senso della comunità. quindi la solidarietà c'è ma va recuperata e va rafforzata la rete.